buona cena a tutti ragazzi oggi cenetta in abruzzo a rossicini di pecora e a tartufo guardate questi perché sarà una bella botta di tartufo e sono spettacolari mamma mia sarà una botta qui e questi sono di pecora ragazzi da me l'assaggio va vediamo come so vai uguale a tartufo mamma mia so poco buoni a rossicini cazzo ma io dovevo nascere in abruzzo ogni sera mi sparavo tutte quante dai raga fatemi sapere chi sono gli avanti degli arrossicini